Sogni di trovare uno smartphone d'occasione e di ultima generazione per cambiare il tuo finché ha ancora un valore? Ma dove? Nella giungla delle offerte online? O magari nell'incubo dei siti di scambio tra privati? No! Oggi c'è Second Hand Mobile! Entra in un punto vendita Second Hand Mobile, gli specialisti della compravendita. Con la formula usato su usato troverai valutazioni imbattibili e occasioni di ultima generazione con 12 mesi di garanzia. Ci vendi il tuo smartphone, compri l'occasione dei tuoi sogni pagando solo la differenza e se lo fai col Bancomat hai 3 mesi di dilazione a tasso zero. Cambiare smartphone non è mai stato così facile. Second Hand Mobile, compravendi con noi!